Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di mister Paolo Zanetti, antivigilia di Lazio, Ellas, Verona, quarta giornata di Serie A, Any Live 24-25. Iniziamo pure Gianluca Tavellin, Quotidiano all'Arena, grazie. Ciao mister, ben ritrovato. Che Verona hai ritrovato quando sono tornati i ragazzi che sono stati in giro con le nazionali, insomma durante questa sosta? Che Verona ti aspetti all'Olimpico? Beh allora, diciamo che intanto mi fa piacere che i ragazzi che sono andati in nazionale sono stati tutti i protagonisti, hanno fatto delle ottime partite, normale che è un pochino di strascico, le partite ravvicinate, molti viaggi sicuramente lasciano, però deve essere un motivo di vanto il fatto che abbiamo parecchi giocatori che sono stati via e sono arrivati un po' a giorni alterni, quindi adesso abbiamo avuto questi pochi giorni, ieri, oggi, ancora domani per preparare la partita, diciamo con la squadra al completo, però nel frattempo al di là di chi è andato via, anche chi è rimasto, devo dire che ha avuto la possibilità di allenarsi, di allenarsi molto bene, quindi mi ha fatto molto piacere di mettere dentro benzina perché più di qualche ragazzo secondo me aveva bisogno di fare una sorta di allungamento della preparazione e quindi però ci stiamo livellando anche a livello fisico, quindi adesso abbiamo questa parte importante e dal punto di vista dello spirito sicuramente stiamo bene, la squadra è carica, ha entusiasmo, ma vedo che sta mantenendo la giusta umiltà e questa secondo me è la cosa più importante. Magari per fargli assaporare un po' il clima così della squadra porterai via Serdar, ti chiedo, e poi che cosa dirai probabilmente a Baroni, magari avevi anche sentito ancora prima di sedere sulla panchina del Verona, grazie. No, allora Serdar non è della partita e penso che non lo sarà neanche per la prossima, è in via di guarigione ma l'infortunio è stato un infortunio abbastanza serio, infortunio muscolare che si parla di un secondo grado e quindi ha bisogno dalle 4 alle 6 settimane, quindi questo è un po' tanto per darvi una tempistica e quindi lui sicuramente non ci sarà, a Baroni non ho niente da dire di quello che ci siamo già detti, ci siamo incontrati anche da poco, credo che Baroni qui abbia fatto un ottimo lavoro e quindi sicuramente incontrarlo sarà un piacere, come è stato altre volte quando allenava altre squadre, io penso che Baroni sia un allenatore di esperienza, che non si scopriva di certo l'anno scorso, ma che ha fatto gavetta e è arrivato dove merita di essere, cioè in una grande squadra. Matteo Fontana, Corriere di Verona. Ciao mister, ti chiedo, allora parlavete della Lazio grande squadra e quindi ti domando che avversario trovato, la Lazio che ha iniziato il campionato in saliscendi con buone partite, ha perso a Udine e poi quasi sta per battere il Milan, una partita di sempre squadra di valore, squadra che sta sempre in alto, che ha cambiato molto rispetto alla scorsa stagione, molto in maniera consistente, e che squadra trovate allora di fronte? Incontriamo intanto una squadra che sta bene, che sta molto bene fisicamente, l'ultima partita secondo me è stata ottima, hanno fatto vedere ottime cose, oltre alle qualità tecniche che sono qualità secondo me di una squadra che proverà ad arrivare nei posti della Champions, e quindi la partita è una partita difficile, questo è fuori discussione come lo è sempre, ormai facciamo sempre i stessi discorsi, ma è normale che per noi ogni gara è difficile, seconda trasferta consecutiva, in un altro campo è bello caldo, quindi noi da parte nostra, come sempre l'avversario ci interessa, è giusto, lo rispettiamo, ma conta sempre tanto quello che siamo noi, chi vogliamo essere noi, che tipo di partita vogliamo fare, e soprattutto con che mentalità vogliamo andare a dare a Roma, e la mentalità deve essere quella di provare ad andare a fare appunti in tutti i campi, quindi ci proveremo, metteremo in campo chi sta meglio, e andremo a lottare su ogni pallone come stiamo facendo sempre. Parlando con Darko Lasovic, in settimana mi diceva, mi diceva anche il collega Gianluca Tavellin, di quanto sia importante per la squadra avvertire una grande fiducia che hai nei loro confronti, detto poi da giocatore di grande esperienza, capitano come Darko, e questo aspetto quanto è determinante, quanto lo senti tuo, questa totale convinzione nelle qualità della squadra, lo rimarchi spesso, e quindi qual è il rilievo di queste parole che spesso usi? Beh, intanto sono parole che, sono pensieri che penso veramente, non sono cose che dico perché devo stimolarli, o perché devo far credere loro un qualcosa che non corrisponde alla realtà, io credo che lo dicevo ancora prima di fare questi risultati, e poi dopo le prestazioni, i ragazzi mi hanno dato ragione, e quindi hanno semplicemente fatto vedere quello che secondo me potevano fare, e credo incecamente in questa squadra, lo ripeto, e secondo me questa è una buona squadra, che ha tanto margine ancora, che non deve mai uscire da un certo tipo di binario psicologico, perché non c'è grande esperienza, non c'è ancora, secondo me, l'unità che arriverà, ma ancora siamo all'inizio campionato, e per certi versi ancora alcuni meccanismi devono essere ugliati, però siamo nella strada giusta, e non la dobbiamo perdere mai, al di là dei risultati, ma le prestazioni sono quelle che ti fanno sempre stare dentro al risultato, farmo restando che io sono l'allenatore, e sono il primo che ci deve credere, e probabilmente ci crederei comunque, ma ripeto, e ci credo, perché quello che vedo mi fa pensare questo, altrimenti probabilmente non lo direi, perché ormai vi state conoscendo, non sono uno che, né che vada a dire cose non vere, né che non dice quello che pensa, e io quello che penso è questo, e penso che questa sia una squadra, che può arrivare all'obiettivo che tutti quanti vogliamo. Gianluca Vighini, Telenuovo. Allenare una squadra così giovane, la più giovane della Serie A, è un peso, una responsabilità, o anche un piacere? Per me è assolutamente un piacere, assolutamente, io lo dice anche la mia breve carriera, ho sempre lanciato tantissimi ragazzi, tantissimi giovani, se se lo meritano, quindi nessuno mi ha mai obbligato a fare niente, né le squadre passate, né quest'anno, io quando vedo qualcuno che se lo merita, ed è giovane, onestamente mi gasa, mi dà piacere, proprio piacere personale, credo che è una parte del mio lavoro, probabilmente che io ritengo la più bella, cioè cercare di costruire dei talenti, dei giocatori che poi li vedi magari calcare dei palcosciarici internazionali, o andarsi a giocare delle coppe, o dei mondiali, queste cose qua, e aver contribuito alla loro crescita, secondo me è molto appagante, io vengo da questo tipo di idea, di fare il mio mestiere, e poi c'è la gestione, ci sono tante cose, non è che esistono solo i ragazzi giovani, esistono anche i ragazzi vecchi, che devono dare tanto, devono fare i vecchi, poi il risultato sportivo va al primo posto, e io devo fare di tutto, per mettere in campo la squadra migliore, per vincere le partite, ma se dentro questa squadra ci devono essere 4, 5, 6, 11 giovani, li metto tutti, senza nessun tipo di problema, senza guardare la carta di identità. Questa la considero dentro questa domanda, tra quelli che non abbiamo visto, c'è un Belayane? C'è, c'è, secondo me ce n'è più di uno, ti dico la verità, sai che anche fare i nomi, sinceramente non mi piace, perché non voglio, come dire, prepararli a un qualcosa, e che invece devono aspettarsi, quando io decido che è il momento giusto, senza creargli delle aspettative prima, però secondo me, per esempio, Ciseo è un ragazzo che alla lunga, deve per forza, far vedere quello che so fare, è arrivato un ragazzo molto, molto interessante, che è il Lambord, molto, molto interessante, credo che anche si Shuba sia un buon giocatore, anche se oggi probabilmente è ancora più acerbo, ma mentre il Lambord lo vedo già pronto, c'è Ghilardi, che è un altro ragazzo, che giocherà dal 21 titolare, che da noi in questo momento ha poco spazio, ma è un ragazzo, su cui, sinceramente, credo, ed è rimasto, e potrei fartene una lunga lista, credo che da questo punto di vista, al di là di italiani, stagneri, ma se parliamo di giovani, credo che il club, o meglio, direttore, abbia lavorato, secondo me, in maniera straordinaria. Adesso sta a tenere, perché non è una domanda provocatoria, né, né, fai quella provocatoria. No, però, con che modulo gioca il Verona? Questa è una bella domanda. Allora io ti faccio, ti do una risposta provocatoria, o meglio, noi in questo momento, stiamo difendendo in un modo, e stiamo impostando in un altro. Questo è quello che noi stiamo facendo, per motivi tattici, per motivi strategici, e anche perché, secondo me, questa squadra si presta bene, a questo tipo di idea. Di certo non l'ho inventata io, quindi, voglio dire, stiamo seguendo questo tipo di, di idea, che è, secondo me, figlia di, una ricerca di una quadra, che abbiamo cercato di, di trovare velocemente all'inizio, senza mettere in difficoltà nessuno, senza dover fargli ragionare troppo, soprattutto tanti ragazzi, che venivano da un calcio diverso, dove probabilmente difendere, in un certo modo, che comporti, un ragionamento, e quindi anche, un livello comunicativo, fra di loro, abbastanza elevato. abbiamo dovuto fare, secondo me, altri ragionamenti, e quindi poi, mantenendo però, con la palla, quello che avevamo sempre provato all'inizio, quindi, questo è un po' per spiegarti a grandi linee, senza, addentrarmi troppo, sull'aspetto tecnico. Tommaso Badia, Calcio Ellas. Ciao mister, riagganciandomi al discorso Belaiane, volevo chiederti, come lavori sulla testa, di un ventenne, insomma, che l'anno scorso, ha un po' assaporato, quella che è la Serie A, e che adesso si ritrova, catapultato, insomma, titolare, in mezzo al campo, quindi volevo chiederti, come lavori sulla sua testa, perché non si ritrovi, ad avere magari, qualche grillo, invece, per la testa? Ma io, onestamente, tratto tutti, nella stessa maniera, non ho, non faccio distinzioni, se non, in qualche caso, particolare, io credo che Belaiane, prima di tutto, abbia una grande componente, che è quella mentale, che è il coraggio, che è la personalità, come si dice, la personalità, che cosa vuol dire, ha il coraggio, di entrare in campo, in tutti gli stadi, esprimere, esprimere quello che è, quello che vedo, tutte le settimane, e di ragazzi bravi, ce ne sono tanti, però io, onestamente, nella scelta, del timing giusto, di metterli in campo, di buttarli nella mischia, come si dice, guardo molto l'aspetto mentale, più che l'aspetto tecnico, perché poi, quando vai là dentro, bisogna che fai vedere, e lì, secondo me, lui, ha questa grande qualità, che è freddo, che è coraggioso, che ci diverte, quando gioca al calcio, non ha pensieri particolari, a un margine, infinito, e secondo me, è importante, che lui mantenga, l'umiltà, quindi, come ha avuto la possibilità, io, sono pronto, anche a toglierla, nel momento, che non vedo questo, però, non credo, che sarà così, perché, per quello che l'ho conosciuto, e poi, io li metto dentro, ma le risposte in campo, li danno loro, gli attori, poi sono i ragazzi, quindi, è stato bravo lui, a sfruttare la chance, e poi, volevo chiederti, insomma, con questa pausa, magari, hai avuto modo, di vedere meglio, gli ultimi arrivati, quelli arrivati, proprio all'ultimo momento, e ci hai detto, che si stanno, un po' livellando, a livello, di minutaggio, insomma, nelle gambe, volevo chiederti, quindi, se vedremo, magari, già con la Lazio, qualcuno che fino a ora, non abbiamo già visto, penso per esempio, a Sarra, che ci aveva detto, che aveva pochi minuti, nelle gambe, sì, Sarra è uno di quelli, lui, Alidu, qualche altro, che ritengo giocatori, diversi, non sono dei giovani, questi ragazzi, sono dei giocatori, già formati, che abbiamo preso, che, che secondo me, hanno delle qualità, che devono mettere a disposizione, della squadra, fermo restando, che prima, dovevano essere performati, dal punto di vista fisico, da questo punto di vista, hanno messo dentro, quindi, ovviamente, si candidano come gli altri, quando avranno la loro possibilità, devono sfruttarla, e, sicuramente, saranno della partita, poi dopo le scelte, le vedrò, lunedì.